la supply chain è strategica perché è quel mezzo attraverso cui le aziende arrivano al cliente quindi il cliente al centro del business e deve essere servito nel modo in cui il cliente vuole essere servito quindi la supply chain cosa fa? porta e distribuisce il prodotto nei tempi richiesti dal cliente quindi i lead time devono essere sempre più ridotti sempre più veloci la supply chain deve essere agile reattiva e così di conseguenza anche la gestione degli stock delle scorte sia dei centri di distribuzione che dei siti produttivi per cui è un centro nevralgico sia per quello che è a servizio del cliente ma anche per quello che è la gestione operativa dell'azienda in sé nel senso che lo stock è capitale immobilizzato i costi di acquisto sono comunque dei costi vivi del prodotto quindi tutto il flow che dall'acquisto delle materie prime arriva fino alla distribuzione del prodotto finito al cliente è strategico per aumentare quello che è il livello di servizio del cliente che è fondamentale altrimenti il competitor supera e per ottimizzare la gestione operativa di quello che è l'azienda e la produzione il processo manifatturiero dell'azienda innanzitutto considerando che il fattore fondamentale è l'uomo la persona quindi non dimenticandoci questo e poi considerando che oggi ci sono diverse tecnologie a disposizione ma bisogna essere capaci di connetterle nel senso di renderle connesse con le persone e tra le stesse tecnologie solo in questo modo si può ottenere l'efficienza migliore il migliore equilibrio senza snaturare anche la natura del business di un'azienda sono concetti fondamentali perché oggi si parla molto spesso anzi troppo di industria 4.0 ma forse a livello superficiale le aziende fanno già industria 4.0 da tanti anni soltanto che forse non lo si sapeva ed è solo attraverso proprio questa connessione tra le diversi elementi necessari di una vita dell'azienda che si riesce a ottenere i risultati di una supply chain supply chain che deve essere a supporto delle diverse funzioni aziendali e nel caso di Dallara è proprio a supporto di un'azienda che fa della conoscenza l'elemento distintivo conoscenza applicata e conoscenza a servizio del cliente nei settori nel quale la Dallara lavora è una teoria elaborata da un fisico israeliano che si basa sul fatto che ogni sistema che le prestazioni di ogni sistema alla fine dipendono dalle prestazioni dell'elemento più critico e dall'anello debole diciamo dal collo di bottiglia all'interno del sistema stesso quindi questo è stato poi riportato nel mondo della produzione industriale per cui nelle supply chain si trova si individua l'anello critico ed è molto più conveniente lavorare su quello per ottimizzare le prestazioni del sistema piuttosto che andare a lavorare magari in periferia su elementi che non sono determinanti ai fini dell'output ecco questo è un approccio che ho trovato molto redditizio molto fruttuoso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti